Buonasera dal TG1, questi erano i nostri titoli e questa è la nostra copertina. Vlada e la sua famiglia scendono nel rifugio. Mi sono svegliata con un grande botto. Ho capito che era la guerra. La guerra spiegata a una bambina, una cantina umida ai bisvigli dei vicini. La corrente elettrica che va e viene e il buio fa ancora più paura. Non voglio morire. Voglio solo che tutto questo finisca prima possibile. Grazie.